Identificati e denunciati gli autori del furto dell'ambulanza della pubblica assistenza di Prunetta nel comune di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia. Le indagini eseguite dalla locale stazione dei Carabinieri hanno consentito di identificare i quattro giovani autori del gesto. Si tratta di un diciottenne albanese e di tre minorenni, uno albanese e due italiani, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e sul conto dei quali, secondo gli inquirenti, sono stati raccolti diversi e concordanti indizi di reità e pertanto sono stati deferiti alle autorità giudiziarie competenti per i reati di furto aggravato e continuato in concorso. Sì, l'attività è stata un'attività che è stata svolta nel giro di un paio di giorni, di fatto dei ragazzi, perché poi abbiamo scoperto se si trattasse di quattro giovani, uno di 18 anni e tre minorenni, due di nazionalità albanese e due italiani. A San Marcello hanno rubato prima una bicicletta per ritornare verso Pistoia, dopodiché hanno provato a scassinare due auto senza successo, danneggiandole di fatto le porte. Poi hanno forzato la porta dell'autorimessa della Croce Verde di San Marcello riuscendo a reperire le chiavi di un'ambulanza che hanno rubato, caricandovi all'interno addirittura la bicicletta che avevano precedentemente recuperato, rubato. Chiaramente il mezzo forse non era del più idoneo per raggiungere la piana tant'è vero che dopo un chilometro, due chilometri l'hanno abbandonata. L'attività investigativa posta in essere da Caramie di San Marcello e Piteglio hanno consentito di identificarle e sono stati tutti deferiti. La gravità riverbera sotto diversi profili, uno è il profilo dei reati predatori e dei danneggiamenti che colpiscono la gente in generale, che ha il diritto di vivere nella consapevolezza del rispetto delle norme. Il fatto più grave di tutti questi tentativi di furto è quello che poi è stato realizzato, che è il furto dell'ambulanza, che è un bene della collettività tutta e che è là, questa, proprio per garantire soccorso e quindi l'eventuale suo danneggiamento e asportazione ha creato sicuramente un grave episodio da perseguire in modo ferro, ancorché la giovanità dei ragazzi coinvolti nell'evento.